Cinque sensi di marcia, Cosenza vecchia a chilometri zero. È stata chiamata così l'iniziativa promossa per sabato 12 ottobre dalle 17 alle 21 dagli assessorati al turismo e alla sostenibilità ambientale del comune di Cosenza per riscoprire il piacere di passeggiare nei suggestivi luoghi del centro storico, spesso poco frequentati e conosciuti. Sabato Cosenza e il suo centro storico saranno lo scenario incantato di Cinque sensi di marcia, un'iniziativa che attraverso l'utilizzo dei cinque sensi e quindi di percorsi enogastronomici, turistici, culturali, sensoriali, legato alla musica, alle arti, agli spettacoli, ai bambini farà conoscere il bellissimo centro storico camminando a piedi. Dalle ore 17 alle ore 21 sarà possibile non solo scegliere fra i tre percorsi di trekking ma sarà possibile anche visitare le mostre, saranno infatti aperti tutti i musei, sarà inoltre possibile sostare o fare shopping nelle botteghe del centro storico che resteranno aperte per l'occasione. Il programma particolarmente vario ed articolato prevede tre itinerari di trekking urbano di diverse difficoltà che attraverseranno il cuore del quartiere antico, ci saranno guide esperte che offriranno anche informazioni e spiegazioni durante il percorso. Un itinerario con partenza da Piazza dei Valdesi sarà avvolto alla scoperta della cosenza rinascimentale, mentre altri due itinerari partiranno da Piazza 15 Marzo alla scoperta della cosenza risorgimentale e della cosenza medievale. Oltre all'attività di trekking urbano, l'iniziativa vuole anche stimolare i cinque sensi, vista, tatto, gusto, udito ed olfatto, prevista una vera e propria contaminazione tra i diversi eventi. Il programma infatti spazia dalle mostre ai momenti musicali, dalla degustazione di vini, liquori e dolci tipici cosentini ai momenti ludici, tra cui anche giochi da tavolo e ci sarà perfino una caccia al tesoro.